Era ormai troppo il tempo passato senza di lei lei unica ragione del suo risveglio mattutino e tutte le fantasie su come sarebbe potuta essere la loro storia. In le lunghe passeggiate, rimembrando lei, semplicemente, unicamente lei. Ma un giorno qualcosa cambiò. TLS Productions, lei arrivò. Corri ragazzo, corri, perché la cucina non è l'unica cosa che ti sta aspettando. Corri anche tu al computer, caro amico, il 10 ottobre 2011, perché tu sei la nostra vita. E' un'altra cose. E' un'altra cose. Grazie a tutti.